Il 25 aprile sia un modo per ricordare la libertà, e la libertà, contrariamente a quanto pensano molti, non è retorica, la libertà è la possibilità di fare cose semplici, le cose semplici della vita, la libertà di aprire una porta, di chiuderla, di fare una passeggiata, di leggere un libro, di non leggerlo, di aprire una finestra, respirare l'aria fresca della campagna. Ecco, quella è la ragione per cui persone si sono sacrificate nel 1943-45, hanno perso la vita, hanno lottato la possibilità di continuare a fare cose semplici, respirare la vita nella della sua semplicità, non cose enormi, scelte gigantesche, ideologiche, la vita nelle cose semplici. Io ho avuto una piccola esperienza di, come dire, di privazione della libertà, e le spiego che la cosa che mi mancava di più era aprire la finestra o aprire la porta, e non fosse altri che lo facevano per me quando deciderano di farlo. Nella orazione di stamattina qualcuno ha ricordato la frase di Levi, il primo Levi, la traduzione tedesca della parola mai, quando uno chiedeva qualche cosa gli dicevano domani mattina, e quel domani mattina non veniva mai. Ecco, la libertà è quella, che non devi chiedere a qualcuno la licenza di poter fare qualcosa di semplice.